Eccellentissimo e antica maceraria Andrighetto, presentano Happy Days Party, anni 50-70, premiazione automoto, gara di lentezza in moto, Miss Spin Up, Burlest Show, Rockabiggly Music, Fitnet Dance, birra a volontà, Landry Burger e l'antico Old Dog. Domenica 24 maggio, a Motta di Nivenza, in Piazza Castello, dalle 10 alle 23. Eccellentissimo, vi aspetta all'Expo a Milano, rappresenteremo il Veneto per tutto il mese di giugno. Grazie a tutti.